Lezioni da Nicola Finco? Anche no, grazie. Inizia così il comunicato stampa del PD dopo le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio regionale in risposta a un altro comunicato stampa di 24 ore fa, sempre diramato dal PD, nel quale Nicola Finco viene accusato di avere politicamente memoria corta sia sulla sanità che sui problemi di Bassano. Ci chiediamo, si legge nel comunicato del PD come mai il consigliere regionale Finco abbia dichiarato che bisogna salvare l'ospedale di Bassano. Viste le sue dichiarazioni e il suo grande lavoro, il nostro dovrebbe essere l'ospedale migliore del mondo, ma non è così e spieghiamo a Finco il perché. Il candidato leghista pensa di cavarsela per aver fatto qualche interrogazione, ma a garantire una sanità pubblica efficiente ci doveva e ci deve pensare la regione. Ed eccoci alla replica di chi non ha nessuna intenzione di passare per quello con la memoria corta. Nicola Finco affida a un comunicato la sua risposta alle accuse del centro-sinistra. Leggo con piacere, scrive Finco, l'intervento del gruppo PD bassanese e della collega consigliera Luisetto sul mio impegno nel corso degli anni per la sanità bassanese. La domanda che pongo però ai due critici in questione è voi dove eravate? Dove eravate quando ho minacciato le mie dimissioni da consigliere regionale se non fosse stata mantenuta una ULS nel nostro territorio? Dove eravate quando ho ottenuto la conferma della chirurgia vascolare e urologia quale centro di coordinamento? O quando ho chiesto che il polo bassanese fosse designato quale centro di riferimento per la chirurgia protesica mini-invasiva? Dove eravate quando mi sono battuto per senologia? E poi l'attacco alla collega Chiara Luisetto, di cui Finco ricorda e sottolinea l'assenza sui temi e sulle battaglie legate alla sanità e al nostro ospedale per tutta la durata del suo mandato da sindaco di Nove o da consigliere provinciale di Vicenza. Insomma, fra accuse di memoria corta e smemorati più o meno occasionali, una cosa è certa, chi non dimentica questi ultimi anni di politica bassanese sono loro, i cittadini di Bassano.